Il 26 maggio 2018 a Mantova e Just A Few Images è all'Architome. Siamo con Chiara Manese, voce nella Symphonic Power Metal Band italiana Cantica. Ciao Chiara, come stai? Ciao, tutto bene. Caldissimo, ma sto abbastanza bene, dai. Ok. E niente, cosa dire, sono qui con la mia band, non vedo l'ora di salire sul palco. Noi facciamo, come dicevi appunto, Symphonic Power Metal. Le ragazze sono di Genova, io abito a Milano. Io sono anche cattante lirica di lavoro e ultimamente mi sto occupando di alcuni progetti anche pop che avranno il loro sviluppo prossimamente. E resta sempre, comunque sia dentro di me, lo spirito metal. Grazie. Ciao.